Noi dobbiamo collegare sempre di più il nostro vino alle nostre cantine, all'identità territoriale e fare in modo che il nostro prodotto sia legato al territorio. Attraverso queste manifestazioni riusciamo a promuovere questo concetto importante di promozione. Proprio nel 2015 abbiamo avuto un più 8% di export per quanto riguarda il settore vino, risultate assolutamente brillanti. Il primo bando del piano di sviluppo rurale ha riguardato appunto la promozione, 1.200.000 euro a disposizione dei prodotti agricoli regionali, in particolar modo del vino. Il cielo stellato della notte di San Lorenzo, la romantica cornice del porto turistico di Pescara, le melodie dei grandi classici della tradizione musicale italiana. E al centro lui, il vino abruzzese, questa l'atmosfera scelta dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo per l'evento intitolato Calici di Stelle. Una manifestazione che come Movimento Turismo Vino Abruzzo solitamente cerchiamo di portare le persone nelle nostre cantine, ovviamente in estate diventa difficile e questo bellissimo scenario di Pescara, della Marina del Porto di Pescara, permette di fare sicuramente da attrazione ai turisti che sono presenti sul luogo e far assaggiare non solo i vini del nostro territorio, ma anche alcuni prodotti tipici. L'iniziativa chiamerà raccolta ben 33 cantine abruzzesi pronte ad accogliere i visitatori, con una selezione di oltre 90 vini, tutti rigorosamente made in Abruzzo, tra bollicine, freschi bianchi, rosati, cerasuolo e il classico Montepulciano d'Abruzzo. Quest'anno ci sono altre novità, quindi oltre a degustazione dei vini con tutte le cantine, si potrà degustare anche il vino tra cielo e mare, grazie a un armatore che ha messo a disposizione un catamarano, un fiumare Abruzzo, quindi si potrà degustare anche il vino facendo una passeggiata in mare.